Il copo di testa di Ceramitaro, il pallone controllato da parte di Moncusu, Junco in aria solo, Junco in tiro al gol. Ne prende ancora ad attaccare il Trapani, il cross, Ceramitaro di testa, Moncusu e ancora Ceramitaro, segna il 2-0 e stavolta Guarn secondo me poteva intervenire. Precede Junco, nell'uno contro uno, poi ancora Calderoni, tocca per Romizzi, la botta dalla distanza, gol! Riapre la partita stavolta. Nadarevic, il tiro cross, di testa Galano, gol! 2-2, pareggio Galano! Limite, Nadarevic, farà per Caudone, in aria di rigore, c'è fallo, ridore, calcio di rigore. Contro il portiere Nordi, si attende il fischio dell'arbitro, parte Polenza, il sinistro, gol! Rete! Possibilità di contropiede, Nadarevic, se ne va 2-2, Nadarevic e Galano sono in avanti. Ancora Nadarevic, si guarda attorno, sulla sinistra arriva Calderoni, Nadarevic, per Carderoni, è solo in aria, Calderoni, Calderoni, il tiro, gol! 4-2, Calderoni e la panchina del Bari che scatta, si eleva e va in campo, 4-2, il gol di Calderoni. Attenzione al cross, inizia, il colpo di testa, il gol di Moncusu. Mancusu segna il terzo gol, con un colpo di testa in tirata e mette la palla dell'angolo sulla sinistra del portiere del Bari quarto. Nizzetto fa partire il cross in aria di rigore, chiosa che non si eleva, la parata di Guarna sulla linea di porta, 2 secondi alla fine ed ecco il fischio finale, il Bari torna alla vittoria!